Salve a tutti, buongiorno, buonasera e rieccoci nuovamente su Cannotv, questa volta per parlare dell'ultimo numero di Nathan Never, il 366, che da qualche giorno a questa parte potete trovare in edicola. Si intitola Mr. Perfect e da subito spicca questa bellissima copertina di Sergio Giardo, che io trovo particolarmente indovinata anche dal punto di vista della colorazione, una copertina che riassume idealmente quello che poi noi effettivamente leggeremo all'interno di questo numero, un numero che si incentra sui robot. Già lo scorso numero, il precedente numero di Nathan Never, il 365, in memoria di un assassino, riguardava i robot. In quella storia infatti un ambasciatore robot o qualcosa del genere veniva sospettato dell'omicidio di una donna. E qui grosso modo succede la stessa cosa, seppur con una dinamica differente, perché la storia si incentra sulla Perfectronics, che è una azienda capitanata da una certa Claire, da una donna di nome Claire, che poi avrà anche un ruolo in questa vicenda, un'azienda che si occupa di produrre dei robot di genere maschile, i cosiddetti C20, Cyborg 20, che altro non sarebbero che una versione aggiornata di precedenti esperimenti, i C19, i Cyborg 19, si occupa di proporre questi robot di genere maschile a un pubblico di genere femminile, costituito da donne sole prevalentemente, sole per varie motivazioni, anche tristi, anche drammatiche, come impareremo a conoscere nel percorso di questa storia, per fornire loro compagnia anche sessuale. Quindi che cosa sono questi robot? Sono delle dame di compagnia, sono dei gigolò, sono delle bambole gonfiabili? Ognuno può interpretare a suo modo il discorso. E la storia si incentra su una di queste donne, amica di Claire, tale Patricia, che acquista uno di questi robot, dandogli il nome di Kevin. Peccato che a un certo punto, durante una festa, questa donna venga ritrovata cadavere e accanto a lei venga sorpreso, diciamo, Kevin, ecco, che non è in grado di spiegare che cosa sia accaduto e scappa. Da lì inizia tutta quanta l'indagine che Nathan, con l'aiuto di Sigmund, porterà a termine, scoprendo poi che cosa c'è dietro a questo omicidio. E capendo poi se questo... scoprendo poi se questo Kevin, se questo cyborg, se questo robot è veramente il responsabile di questa uccisione, di questo omicidio. Ecco, questa è un po' la trama che io ovviamente non vi spoiler o non mi inoltro più di tanto nella descrizione. Una trama anche molto ben fatta, non prevedibile. In molti avevano trovato come difetto, diciamo, del precedente numero di Nathan Never una certa prevedibilità, che io non ho riscontrato. In questo numero, che si può tranquillamente leggere autonomamente, non serve essere degli esperti. In Nathan Never ci troviamo ad avere a che fare con un albo piuttosto slegato dalla continuity del personaggio, quindi completamente comprensibile, a mio avviso, anche da chi solitamente non legge la testata. Ed è un numero molto bello, molto interessante, perché permette di attuare qualche riflessione, niente affatto banale, niente affatto scontata, per come la vedo io, su delle tematiche anche piuttosto attuali, anche piuttosto impegnative, come ad esempio la violenza sulle donne. Ecco, è un numero che, nonostante parli di robot, parla di sentimenti, perché parla di esseri umani che hanno bisogno di compagnia e quindi hanno bisogno di affetto, di calore umano, ma parla anche di robot che forse diventano troppo umani. Ecco, questa è una tematica che è già stata approfondita tanto, no, sia a livello letterario che cinematografico. Ma qui viene buttata giù da Michele Medda, autore anche del soggetto e della sceneggiatura, in maniera niente affatto banale. Un modo interessante, secondo me, di affrontare un po' l'argomento. I disegni invece sono a quattro mani, perché coinvolti sono Guido Masala e Elena Pianta. Io credo che le prime 16 pagine, 28-29 pagine, scusate, o giù di lì, siano eseguite andando per logica, anche se non ci viene spiegato più nel dettaglio, chi abbia disegnato cosa. Andando per logica, credo che le prime 28 pagine siano state eseguite da Guido Masala, di cui vi mostro qualche tavola. I disegni sono veramente particolari, veramente molto personale questo tratto di Masala, che è un disegnatore molto molto bravo a rappresentare le espressioni, diciamo, dei vari protagonisti. Ha un tratto anche molto particolare, quindi le tavole sono veramente molto molto belle, anche inconsuete. Per quanto riguarda la griglia, potete vedere che non ci troviamo di fronte al solito lavoro bonnelliano, bensì ha un qualcosa di particolare dal punto di vista grafico. Seguono invece i disegni di Elena Pianta, che sono sicuramente più digitali, se mi consentite il termine nell'aspetto, ma altrettanto efficaci, perché guardate che belle tavole comunque vengono ricreate, diciamo, da Elena Pianta. Il lavoro grafico è veramente notevole, compariranno anche personaggi alquanto particolari, come potete vedere nel corso di questa indagine. Io chiaramente non vi ho spiegato più nel dettaglio, perché credo, insomma, che sia inutile, giusto che chi vuole leggersi l'albo se lo scopra da sé, però anche i disegni di Elena Pianta sono molto belli, forse un po' meno particolari rispetto a quelli di Masala, però molto belli. Guardate come Elena Pianta ritrae il volto di questo androide, protagonista di questa storia, questo Kevin, che, insomma, lo devo dire da amante del vecchio cinema, in questa immagine mi ricorda tremendamente Montgomery Clift come espressione, ma queste sono fissazioni di un cinefilo, ecco. Ma i disegni sono veramente molto belli, sia Masala che Elena Pianta hanno fatto assolutamente un ottimo lavoro. Ed è una storia che io mi sentirei veramente di consigliare più della precedente. La precedente era, insomma, una simpatica variazione sul tema, si coinvolgeva Jack lo squartatore, era un Nathan Never più polizzesco, forse, no? Che tecnologico. Qui invece la fantascienza, la tecnologia, ritorna ed è un albo che, secondo me, vuole dire anche qualcosa. Ecco, quindi ci sono dei significati dietro questo numero che a me sono piaciuti molto e hanno costituito, diciamo, occasione di riflessione. Un numero veramente molto bello, al quale non trovo nessun difetto, sia graficamente che a livello di storia, di sceneggiatura. Davvero un'ottima lettura che io mi sentirei sicuramente di consigliare. In quarta di copertina vi mostro l'anticipazione del numero ormai in edicola di Nick Ryder, la ripartenza di Nick Ryder, le nuove indagini. In terza di copertina, invece, vi mostro la cover del prossimo numero di Nathan Never, una cover molto psichedelica per il prossimo albo che troveremo in edicola a partire dal 18 dicembre. Se anche voi avete letto questo numero, fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi è piaciuto oppure no, che cosa, quali significati ci avete trovato, se lo giudicate un albo consigliabile o meno. Per il resto io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a voi piacendo al prossimo video. Ciao a tutti!